Consigliere, un altro piccolo obiettivo è stato raggiunto. Lei nel corso di questi mesi ha prodotto diversi documenti che riguardano il decoro della città. In questo caso abbiamo ottenuto un intervento in via Tevere. Sì, ieri finalmente sono state tolte le bottiglie e i sacchetti che si trovavano sugli alberi, in quanto essendo troppo lunghi le persone hanno messo questi pesi per fare in modo che i rami non gli entrassero in casa. Finalmente ieri dopo che è stata fatta e reclamata questa situazione sono stati tolti, sono stati tagliati gli alberi e inoltre è stato tolto anche il pannello pubblicitario che risultava alquanto pericoloso in quanto era distrutto e poi tutto arrugginito. Adesso il prossimo obiettivo quale sarà? Noi ricordiamo un documento che ci inviò qualche tempo fa invece su una gestione più globale della situazione del decoro e del verde pubblico. Sì, ancora aspetto che questa mozione venga discussa in Consiglio Comunale. Ho presentato appunto un documento dove chiedevo all'amministrazione di censire tutte le aree pubbliche, aree verdi pubbliche e darle in affidamento alle scuole e alle associazioni per un insegnamento appunto riguardante l'alimentazione e l'educazione ambientale e poi alle attività in quanto appunto curando il decoro urbano potevano affiggere un logo della propria attività e quindi sponsorizzare il proprio operato e oltre questo anche ai privati in modo tale da avere uno sgravio della Tasi. Quanto ci vorrà per discuterlo? Allora, credo che venga discussa il prossimo mese, sperando che non cada nuovamente il numero legale e quindi finalmente si potrà ottenere qualcosa di positivo, spero e mi auguro.